ciao a tutti ragazzi sono luk e benvenuti in questo nuovo episodio ok ho preso dei pistoni e dell'oro mi servono un paio di cristalli gialli veloce 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 allora i cristalli sono chi due cristalli gialli andiamo nell'infuser e mettiamo cristalli gialli poi 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 due oli e due pistoni da tankete dovremmo fare i pistoni quelli quelli gialli quelli che ci servivano per fare il coso lì allora prendiamo la nostra zainetta prendiamo il libro e dai il libro e vediamo un po' che esera che esera allora cerchiamolo qua abbiamo tutti i nostri crafting eccolo qua il duplicatore allora quattro pezzi di oro due di quelli e due di quelli quattro pezzi di oro li abbiamo ci servono due wood enchant eccitali chi proprio giusti giusti dai dai magari ci buttiamo dentro un po' di ossidiana ossidiana ok uno è fatto animate il piston e anche 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 quasi l'altro e dai dai ok uno e 12 perfetto prendiamo questa roba chi facciamoci ah no aspettate non mi ricordo più com'era due pistoni quattro ori perfetto allora quattro ori agli angoli due animate il piston due wood enchant e voilà e voilà questo qua per il momento per il momento per il momento solo per il momento lo possiamo piazzicare chi giusto per adesso perfetto eccitelo chi allora proviamo a mettere i tubi prendiamo dei tubi prendiamo dei tubi che non abbiamo più tubi non abbiamo più tubi a che ce l'abbiamo pirletta allora andiamo qui spacchiamo un attimo questo qua dovrebbe andare sotto se non mi sbaglio di lato non mi ricordo se sotto o di lato vediamo un po vediamo un po se funziona vediamo un po se io metto un pezzo di legno vedete che non va però se lo metto di lato di lato va perfetto e allora era di lato ok sorry 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 è colp mia è colp mia perché va di lato ok perfetto ci piazzichiamo il tubo e come vedete ha fatto due legni ora se io metto il legno vedete che qui vedete 1 e 1 2 da 2 sono diventati 4 se ne metto 4 diventeranno 8 e così via se invece voglio farlo continuo me ne basta mettere allora aspettate basta qua dove c'è la freccettina mettere così la freccia che torna indietro in modo che rimettiamo 1 ed è continuo però logicamente in base al liquido lui fa però inutile fare il legno allora facciamo qualcos'altro mettiamo magari i diamanti anche qui però per il momento lo lasciamo perché voglio farlo quando avremo un bel impiantino di di liquido perché mi servono dei filtri ed è ancora delle cose che bisogna cercare le pergamene per cui mettiamo ma allora sono pirla veramente sono non per scherzo ma veramente mettiamo via i tubi che non ci servono dove cavolo li ho messi porca trota ok qui intanto ho messo a fare delle pergamene no delle oh quali neri abbiamo due neri e due blu bene proviamo a vedere che esce fuori prima fare prima i blu tanto 35 a 0 o io la voglia 1 e abbiamo il 7 leg books hard vediamo un po se esce qualcos'altro lo perdiamo lo perdiamo perfetto vediamo questi due invece questi non voglio perderli eh 35 quasi quasi ci metto qualcosa che vale di più che ne dicete se non mi sbaglio valgono di più questi qua non vorrei dire una cavolata perché questi qua non voglio perderli vediamo un po 35 uguale ne ne cambiate nucazze niente e niente dai niente affanculo niente mettiamo a fare questo qua che è hard e nel frattempo nel frattempo nel frattempo nel frattempo prendiamo qualcos'altro da 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 fare le pergamene le pergamene allora prendiamo magari 9 di questi uno lo lasciamo le librerie le abbiamo perfetto qua quasi finito andiamo a vedere un po di energia di qua 10.000 10.000 le raccogliamo andiamo diamanti come siamo messi 4 ora andiamo a vedere anche i diamanti di là nella dark room tankete andiamo a vedere se ha fatto la pergamena ancora niente è hard però abbiamo un 47 a 14 dovremmo farcela bene andiamo a vedere la pergamena abbiamo detto e la pergamena a farti fottere la diamantola madonna che spavento madonna che spavento che spavento dov'è madonna ragazzi mi sono cagato sotto voi non potete immaginare ma va a farti fottere va va a farti fottere che è scoppiato ragazzi un diamante avete sentito anche voi sto botto che cazzo è scoppiato ah sono questi che no ragazzi questi sono pericolosissimi porca trota spaccano tutto guardate sono tipo i giganti madonna ma tutto a me ma tutte a me andate a fanculo va porca di quella trota devo cancellare il white point lì devo rimettere a posto l'inventario controlliamo se c'è la pergamena e poi dico di spegnere eccola qua di spegnere perché sennò va a finire che faccio un patatrack meglio che mi riposo oh abbiamo fatto le seven long boots le scarpe che non mi ricordo cosa servono ma prima dobbiamo fare quelle verdi per fare quelle verdi adesso non so se se c'è qualche crafting aaaazzo allora cristallo verde piuma e scarpe di pelle dobbiamo farle non le ho mai fatte we non le ho mai fatte we allora una piuma un diamante verde e le scarpe di pelle però non abbiamo pelle non abbiamo la pelle figlio da pollo vediamo un po' se riusciamo a prenderla qui adesso non so manco quanto vale la pelle non ce la faccio allora prendiamo il bastoncino andiamo a scalare eh andiamo a scalare a scalare no pirletto sbagliato allora vendiamo questo prendiamo questo ecco la pelle prendiamo uno stack facciamo un paio di scarpe perfect andiamo qui e lasciamo questo 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 andiamo a vedere che fanno se scarpe va abbiamo detto eh pelle cristallo verde perfetto cristallo verde lo abbiamo meno male e la piuma ok piuma questo e questo vediamo 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 dai che la finiscia intanto vediamo come sono messi i cristalli qui questo ha quasi finito e questo ha quasi finito vediamo un po' che cristalli possiamo mettere dopo possiamo mettere ancora due blu dai due blu li iniziamo a mettere adesso uno e uno due e voilà poi 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 andiamo qui oh vediamo un po' che fanno cosa ho fatto oh corro veloce ragazzi corro veloce corro veloce e non sto correndo eh con doppio tasto W si faccia la W guardo più veloce wow e non si consumano no non ci credo però mi sa che mi faccio male quando cado no ma si arrampica automaticamente no no come le corro però guardate non c'è bisogno che salto ragazzi non sto saltando eh si arrampica automaticamente almeno di un cubo no ma non ci credo che storia che belle queste scarpe voi bene ragazzi quanto cazzo salto è la peppina di maiorcola no che belle volo bene ragazzi vi ho fatto vedere una cosa nuova che non lo sapevo manco io sono sincero e vi dico che da Luke è tutto ciao a tutti a tutti Grazie a tutti.